Sai modulare la voce? No! Proviamo! Vai! Pronti? Via! Tutto ciò che vedi che esiste grazie a un delegato è equilibrio. Come re devi capire questo equilibrio e rispettare tutte le creature, dal piccolo scienziato al saltellante drogato. Ma papà, noi non li picchiamo i drogati? Sim Simba, ma lascia che ti smieghi. Quando moriamo i nostri corpi diventano erba e i drogati fumano l'erba. E così siamo tutti collegati nel grande cerchio della mafia. Simba, lascia che ti dico una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle. I grandi padrini del passato ci guardano da quelle stelle. Davvero? Ma che cazzo dici Simba? Sono fatto a merda, ho fumato troppo. Riportami a casa, non mi ricordo manco come cazzo mi chiamo. Anche lei che credi sempre a ste stronzate, ringoglionito.